Leonora e Gualfredo Leonora e Gualfredo, una bellissima storia d'amore, come è nato questo libro? La storia è un po' lunga ma cercherò di essere breve. Parlando con la dottoressa Taverna che è l'antropologa che mi dà una mano a fare gli studi per andare per Castelli, volevamo capire di cosa poter parlare nella seconda edizione. L'altro anno abbiamo parlato dei trovatori e dell'amor cortese e finivano più o meno 1280-1300. Volevamo andare avanti di 150-200 anni e quindi abbiamo detto ok, di cosa parliamo? Dice ma nelle altre regioni c'è il volgare, noi in Piemonte siamo rimasti collegati con il francese antico, quindi la Lando Hill. E lì avevo due scelte, o il ciclo carolingio, con Cisvale, paladini, ammazzamenti, non è danati per sorridere, oppure il ciclo Breton e quindi quest'anno sarà andare per Castelli 2018, Cavaliere Arranti in amore. Il messaggio dell'andare per Castelli di quest'anno è che gli alti ideali dei Cavalieri, quindi lealtà, fedeltà, coraggio, sincerità, amicizia e amore, sono ideali che andrebbero perseguiti anche oggi. Cercavamo un testo per lo spettacolo teatrale che chiude gli eventi, non l'abbiamo trovato e allora ho detto sai che c'è, me lo scrivo, non se ne parla più. Perché il libro è ambientato a Torino, i tre coprotagonisti sono attuali, sono due uomini e una donna, però fanno parte di una compagnia teatrale che sta mettendo in scena la leggenda di Leonora Gualfredo, che è successa molto probabilmente, essendo una leggenda, alla metà del 1400 al Castello di Montalto. Andar per Castelli, di cosa si tratta? È una manifestazione che è nata l'altro anno con l'intento di promuovere il territorio, l'altro anno abbiamo avuto un buon successo, è piaciuta la manifestazione, è una manifestazione complessa perché è una manifestazione che tira dentro arte, cultura, storia, architettura con i castelli, una mostra d'arte, una chiacchierata con la dottoressa Taverna, che però ha un modo di fare splendido e quindi non te ne accorgi, poi c'è una parte enogastronomica e alla fine lo spettacolo teatrale. Quali sono i castelli e quali sono gli appuntamenti? Quando? Allora, quest'anno abbiamo il primo è l'8 settembre al Malgrà di Rivarolo, poi abbiamo il 22 settembre a Foglizzo, dove siamo adesso, il 6 ottobre al Castello Villanova di Strambino e il 20 ottobre a Mercenasco. Sono quattro sabati pomeriggio sere, l'anno scorso partiva alle 3 la manifestazione alle 15, quest'anno l'ho posticipata alle 4 e mezza, non che ci fosse troppo tempo perché le persone che sono venute, addirittura a San Giorgio una signora alle 11 di sera mi fa mai già finita, dico signora è dalle 2 meno un quarto che è qui, e poi quest'anno quindi partiamo un po' più tardi perché magari le persone che non hanno partecipato l'altro anno non sanno che il tempo vola, per cui da un po' mi hanno detto tutti guarda che sembrano tante le ore, dico ma volano, è accorcia, è così ho accorciato. Nasce per promuovere il territorio, in che senso? Da vari punti di vista, ma la cosa principale è che vorremmo, come nati per sorridere, intanto portare il sorriso alle persone da dovunque arrivino, che siano canavesani o no, però vorremmo anche riuscire a far conoscere la bellezza del territorio, le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra enogastronomia a gente che arrivano da fuori, cioè che non sono canavesane. È un po' un problema perché io ho parlato con un po' di tour operator, i quali mi hanno detto guarda ci puoi provare ma tanto non vengono, però io ho la testa dura e quindi ho deciso comunque di fare delle proposte per singoli e per gruppi affinché le persone che vengono agli eventi dell'Andare per Castello nelle quattro date dormano poi sul territorio e il giorno dopo abbiano qualcosa di molto bello da andare a vedere. Addirittura hanno due opzioni, abbiamo progettato due opzioni, per cui non verrà nessuno, pazienza, ma intanto tutti quelli che leggeranno di questi viaggi sapranno che esiste il canavese che ha delle bellissime cose.